Un incidente grave stradale si è verificato questa mattina alle 5 sulla Valsugana tra Tezze e Grigno. Sull'auto diretta verso Borgo finita fuoristrada, tre giovani, il più grave di 23 anni, di Villagnedo, nel corso dell'incidente ha subito l'amputazione di un braccio. È ricoverato in rianimazione con prognosi riservata all'ospedale Santa Chiara di Trento. Ferita seriamente anche la fidanzata di 21 anni di Cittadella in provincia di Padova, il leiso il terzo occupante di Castello Tesino.